E stavo pensando, gli americani mettono sempre becco in quello che fa il resto del mondo. Lo sappiamo tutti. Per una volta tanto voglio provare a fare la stessa cosa pure io. Infatti, qualche giorno fa è stato rilasciato il nuovo logo di Hillary Clinton Oh yeah! per la prossima campagna elettorale alla presidenza nel 2016. Ecco, il logo è questo. Hillary for America. Ora, se non vi dispiace, vorrei fare una telefonata perché di solito facendo una telefonata è il metodo più sbrigativo si risolvono le cose e si esprimono immediatamente i dubbi. Hillary, 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 Hillary. Sta squillando. Pronto? Ciao Hillary, ciao, sì sono io. Ciao Bella, come va? Tutto a posto? Non mi lamento, Bill che dice Sono contento, sono contento. Senti, ti chiamavo per un fatto. Ho visto che hai fatto progettare il nuovo marchio per la campagna elettorale del 2016, quella per la presidenza. Fantastico, no? Bellissimo, bellissimo. Sì, 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 no? Ma io guardo un presidente donna degli Stati Uniti? Non vedo l'ora, io ci spero realmente a questa cosa qui. Speriamo che sia la volta buona. Senti, però ti avevo chiamato perché lo sai, io quando vedo loghi, cose, vorrei dirti la mia, però non vorrei che ti offendessi, è giusto così da amico. E da collega, perché anche io, sai, potrei diventare presidente degli Stati Uniti un giorno. Ah no? Ci vuole la cittadina. Vabbè, niente, lo divento di qualcos'altro, non è un problema. No, volevo dirti due robe. Se mi fai parlare, poi mi dici come la pensi, però non è che ti devi offendere. Cioè, con tutto il bene che ti voglio, ti volevo dare due consigli. Dal basso della mia esperienza, due consiglietti te li posso dare? Va bene, allora, dici, ho visto questo logo. Bello, perché la H, che tu, nel tuo nome, inizia con la lettera H, Hillary, molto iconico. Ho capito che volevi fare tipo Obama, no? Che ha fatto quel marchio che funziona benissimo, il marchio di Obama. Sì, perché a parte che, vabbè, lui ha la lettera O, che è un cerchio, quindi tipo unità, tutti uniti, coesione, globale, si presta parecchio. Poi lui aveva avuto quest'idea, diciamo, di mettere la bandiera come se fossero i campi. Sì, perché l'America non è fatta soltanto di grattacieli, e la maggior parte sono campi coltivati. E il cerchio della O, l'interno della O, era il sole che nasceva, quindi una storia semplice ma molto efficace nell'ottica della politica. Una nuova alba sugli Stati Uniti, un nuovo sole che sorge sugli Stati Uniti con Obama, quindi è efficace. Certo, devo dirti che però la lettera H non è che si presta come la O, però si possono fare delle cose carine. Però, e qui non ti devi offendere, ok? Vabbè, perché ti voglio tanto bene io, Ilari, ce lo sai. Io ho capito che i rapporti tra gli Stati Uniti e Cuba ora sono nettamente migliorati, però, a meno che io non sbagli qualche cosa, i cubani ancora non possono votare durante le elezioni degli Stati Uniti. Quindi perché hai fatto un marchio con la bandiera cubana? Sì, lo so che non è la bandiera cubana, però, Ilari, cazzo, c'è sta freccia che punta così un po', me la ricorda la bandiera cubana, devo essere sincero. Sì, ok, però anche se avete appianato un pochettino le divergenze, ancora un pochettino vi state sul cazzo a vicenda. Poi magari so cambiare delle cose, io non lo so, questo me lo devi dire tu. E niente, poi anche sta cosa, usare una freccia che punta a destra, ma anche se la usavi dall'altro lato a sinistra, ho capito che tu volevi dire andiamo avanti. Però sai, quando si parla di politica, dare direzioni destra e sinistra, non è che è l'idea del secolo, cioè, uno si schiera così, ho capito quello che ho, però, destra, sinistra, non mi sembra proprio l'ideale. Sì, ma poi figure sono trippi, mi faccio io, non è che se ne accorge nessuno. Ah, volevi fare una freccia nascosta come quella della FedEx? Ehi, la ricara, però a me non sembra tanto nascosta, poi sbaglio io, ti ripeto, probabilmente sbaglio io, ma a me sembra palesemente una freccia che va a destra. Quella FedEx è un pochettino più subliminale, cioè ti rovina la vita una volta che te ne accorgi. E poi, buh, non lo so, cioè, ho capito la H, il tuo nome, però sto marchio mi ricorda un pochettino i cartelli quelli per andare all'ospedale, tipo, a destra per andare all'ospedale. Sai che gli mettono la H, blu? No, ma ti ripeto, trip miei, non è così, cioè, lo so che non è così, quelle cose, sono quelle cose a caldo, le ho pensate a caldo quando me le hai fatto vedere, ho detto, aspetta che ora gli dico due ore... Ma non è che ti stai offendendo, no? Perché io comunque da amico, ti ripeto. Poi, buh, non lo so, sti colori che hai usato, ho capito i suoi colori e la bandiera, ma a me mi ricorda... Mi sa un po' di supermercato, Hilary, te lo devo dire, un pochettino mi sa, tipo, sai, di supermercato al discount di quelli... Non so cosa mi ci fa... Ma qualcosa mi ci ha fatto pensare, la freccia, sti colori, mi hanno ricordato un po' un supermercato, sbaglio, ah, ti ripeto, non è che... No, ma lo so che non è così, sono io pazzo, sono totalmente pazzo. No, ma sono io pazzo, cioè ti ripeto che io addirittura ste due lignette blu con sta freccia rossa violenta che arriva, ci ho visto addirittura all'11 settembre. L'attentato, l'aeroplano che arriva e batte le torri gemelle. Ho detto, vedi che sono io che penso male, malato, vuoi che una che si candida alla presidenza degli Stati Uniti fa un chiaro riferimento al giorno più triste degli Stati Uniti d'America, che ha scatenato il panico e cambiato il mondo. No, è impossibile. Vedi, no, comunque so io che ho problemi. Te li volevo dire, perché uno dice, non me le voglio tenere dentro le cose, te le devo dire. E quindi niente, no, poi bellissimo questa cosa che è molto, questo stile piatto, che si adatta ai tempi moderni, minimale, flat design, questi colori pastellosi che ricordano Google, bellissimo, si presta, social media, che tu sei bravo in queste cose, mi piace, mi piace, bello, bello. Te l'ho voluto dire, Hilary, cioè ora te l'ho detto, dimmi, sentiti libera di dirmi quello che vuoi, anche se stai sbagliando tutto. Aha, sì, sì. Che te lo dico a fare? Una risposta e mi hai tolto ogni dubbio. Ti ringrazio, ti ringrazio. Ciao, ci vediamo alla Casa Bianca. Ciao, ciao. Non lo so, penso che passo dopo domani. Salutami, Bill. Ciao, ciao. Basta fare una telefonata e le cose si aggiustano. I dubbi si risolvono e le guerre finiscono. No, forse le guerre non finiscono. Comunque Hilary ha risposto, fatti i cazzi tuoi e pensa allo schifo che state combinando in Italia. Non è che posso da torto, obiettivamente, mi sono dovuto stare zitto, cioè ha ragione lei. A me però sto logo ancora, non è che mi abbia convinto tanto. Però non è che io lo posso ridire, sembra male, poi quella si offende, già è nevrotica. Vabbè, tanto l'America è lontana, sti cazzi. Va.